Entra nel vivo l'operazione Green Life con nuovi sequestri dei carabinieri della compagnia di Castellamare di Stabia e quelli dello squadrone riportato Cacciatori di Calabria, con loro dall'alto all'occhio elettronico del drone pilotato da remoto da militari del nucleo investigativo di Napoli. Questa volta siamo nel comune di Sant'Antonio Abate, ancora nel verde dei Monti Lattari, immanente di Luigi Verdoliva, 29enne nel posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 9 con matricola a brasa, caricatore e 13 cartucce e un jammer distributore di frequenze. In un terreno attivo, interrate tra rami secchi e rifiuti, una pistola a tanfoglio con matricola a brasa calibro 9 con 20 cartucce e un fucile sovrapposto a carne e mozze calibro 12 con 4 proiettili dello stesso calibro. Verdoliva è ora in carcere in attesa di giudizio. Nell'ambito di questa attività i carabinieri hanno sequestrato a Verdoliva anche una piscina costruita abusivamente in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, 10 metri per 5 le dimensioni, attorno a una recensione di 2 metri di altezza, completamente in muratura. In un rudere abbandonato invece i carabinieri hanno scoperto una coltivazione indoor di cannabis, completa di impianto di illuminazione, areazione e irrigazione. Sette fusti piantati di un metro e mezzo circa di altezza sono stati distrutti in loco. La piantaggione è stata sequestrata a carico di gnoti.